Addestato stupore e commozione in città la notizia della morte della nissena Deana Scarpulla, 53 anni, che da qualche anno lavorava come cancelliera dell'ufficio Jeep Group al Tribunale di Latina. La donna è stata trovata morta in casa sua dopo che i colleghi del Palazzo di Giustizia, non avendola vista arrivare al lavoro, si erano preoccupati cercando di capire se fosse successo qualcosa. Poi la tragica scoperta. Pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un decesso per cause naturali, anche se la procura di Latina ha disposto l'autopsia sul corpo della donna per stabilire con precisione cosa abbia causato la morte. Secondo quanto emerso finora, Deana Scarpulla negli ultimi giorni aveva accusato un forte mal di testa e chi l'ha incontrata aveva notato un gonfiore agli occhi, tanto da dover ricorrere alle cure di un medico che le aveva prescritto dei farmaci. In passato aveva anche avuto dei problemi di salute. Deana Scarpulla era conosciuta in città per avere svolto fino a pochi anni fa la professione di avvocato penalista, lavorando a lungo nello studio dell'avvocato Salvatore Daniele, decano del Foro Nisseno.